Piccole strategie per essere più produttivi. Punto 1. Fai il compito o l'attività più difficile che non hai voglia di fare subito al mattino. Deve essere la prima cosa che porti a termine durante la giornata. Punto 2. Dividi la settimana in blocchi a seconda dei tuoi impegni. Punto 3. Fai piccoli intervalli in cui dedichi anche solo 5 minuti a te stesso e al tuo benessere mentale. In quei 5 minuti ovviamente puoi fare quello che vuoi. Meditazione, stretching, bere un tè caldo. Ecco, magari non guardare il telefono in quei 5 minuti perché non rientra nel tuo benessere mentale. So che è difficile, però il telefono è solamente una distrazione. Invece ciò che ti serve è prendere un bel respiro, interrompere quello che stai facendo che assolutamente non hai voglia di fare o che comunque ti stressa. Quei 5 minuti sono potentissimi perché ti aiutano a ritrovare un briciolo di serenità. Quella che basta per poi finire tutta la giornata in modalità zen e non con l'ansia e lo stress.